Non devi andare sulla Luna per trovare le migliori statistiche sportive. Su Planetwin 365.news trovi statistiche, dati e analisi approfondite e fornite dai migliori esperti. Scopri il futuro dello sport su Planetwin 365.news. I'm cutting straight to the evidence and talking to the people directly involved, including investigators and the families of victims. Listen to My Life of Crime with Erin Moriarty wherever you get your podcast. Se dovessi descrivere questo 64 bars con una rima, una barra del gue, direi non sono così moderno, i cazzi miei tu non farli. Ed è molto rappresentativa perché sta affrontando questo esercizio di stile in una forma anche old school se vogliamo che se la vai a replicare tu ragazzo di nuova generazione non funzioni, la devi dimostrare l'innovazione, la novità. Questo è il discorso. La cosa che mi piace dei rapper di vecchia generazione che ancora sono in voga quali Marrakesh, quali Gue Pecchegno, Fabri Fibra e che non solo possono, vabbè, permettersi di fare quello che cazzo vogliono proprio perché avendo fatto la storia, avendo fatto una community attorno più grande di loro e non è la community dei ragazzini vanno e vengono, ok? No, ma è dei... delle persone che ce le hanno nel cuore cioè Gue Pechegno può fare anche il coglione proprio che può fare anche la cosa che più mi sta sul cazzo comunque è gue comunque io da ragazzino ho sognato con gue ho sognato di essere gue tra parentesi, no? Tutte queste cose qui il stesso discorso vale per fibra, marra e via dicendo quindi se la possono permettere ma stanno andando sempre più verso una direzione di rap crudo, no? Lui dice il mio flow è così crudo sembra una tartare, no? Una battuta simpatica che non è che di di questo esercizio di stile chissà quante citazioni salvo, eh? Non è ciò che ha detto e è veramente come ha affrontato questa strumentale è bellissima forse è veramente una delle migliori dei 64 bars che comunque appunto ha una struttura vecchia scuola ovviamente con dei suoni che suonano più moderni però comunque la struttura è quella è rap ci sono anche gli scratch cioè Gue Pechegno mi fa impazzire perché quando ha la possibilità di fare queste uscite comunque torna hip hop cioè per lui l'esercizio di stile è hip hop per lui questo è freestyle non il freestyle che fai ovviamente improvvisato contro un altro MC ma freestyle inteso come esercizio di stile proprio stile libero e quando lo fa il Gue lo affronta con la stessa fotta di quando ha registrato magari PMC contro Club Dogo per intenderci anche le metriche sono quelle ci sono anche delle autocitazioni che si fa e questa è la cosa più interessante ma tu ragazzo giovane prima di poterti permettere dopo 30 anni di carriera dopo 20 anni di carriera di riapprocciare la traccia vecchia scuola e comunque poterlo fare e non solo non ti viene detto sei indietro ma ti viene detto sei avanti devi prima un attimo essere l'innovazione per qualche anno e per questo motivo che insomma questo 64 Barso come posso definirlo che per me è stato un piacere ascoltarlo è un piacere vedere un Gue così in forma vedere un Gue che comunque non ha confini è uscito neanche un mese fa con senza benzina una traccia in featuring con una ragazza che praticamente è techno lei comunque frequenta quella tipologia di locale quella tipologia di ambient e il Gue mette una strofa su una roba dance tecno diciamo poi magari ti fa appunto l'esercizio di stile con una strumentale magari un po' più drill se vogliamo con massimo pericolo poi magari ti fa il disco dove esce con mille tracce quelle più emotive quelle meno ti canta ti fa la trap cioè Gue questa roba dell'hip hop la fa a 360 ma quando bisogna dimostrare chi ce l'ha più lungo quindi in un format come un 64 bars è lì che Gue Pecegno torna nel puro stile hip hop e non è che sa farlo meglio degli altri è che c'ha quello stile quella roba come Jake del resto Jake ha fatto un disco puramente hip hop ovviamente il disco non ti vende un cazzo perché insomma si ti vende per il genere ma adesso chi cazzo se lo ascolta però considerando che il rap underground oggi vende proprio zero cioè personaggi come i green nonostante le firme major non se lo sta inculando più nessuno ma come 5-6 anni fa i green stava veramente al top perché oggi perché è proprio il genere che la gente non gliene frega più niente non lo ascolta però la verità è che quando poi ti trovi davanti a uno che sa rappare perché i freestyler non se li incula mai nessuno sulle tracce poi prendono i microfoni si mettono in mezzo a una strada fa freestyle 200 persone stanno lì e dicono madonna questo quanto è potente perché perché il rap è un mezzo potentissimo e oggi che il rap per quello che mi riguarda è finito in quanto non è più in grado di innovarsi se non sradicandosi completamente è bello vedere artisti che il rap lo hanno fatto e lo fanno ancora e secondo me saranno veramente gli ultimi perché se no non lo so bisogna inventarsi qualcosa di nuovo ma secondo me è stato detto tutto in questo linguaggio a livello stilistico perché le parole non finiscono mai sono curioso di vedere come andrà una cosa è certa la bandierina la portano avanti ancora certi personaggi che c'erano 20 anni fa e ci sono ancora oggi e ci sono ancora oggi